Grazie a tutti, voglio particolarmente essere presente anche perché per me è la prima volta qui al Museo del Geno, è sempre strano ma non abbiamo mai avuto occasione di poterlo venire prima. Canteranno sì, anche se direi che Ale e Luca lo sono molto più di me, di sicuro c'era una cosa nel senso che arrivati nel settore giovanile del Geno insomma si veniva in qualche modo addestrati anche dal punto di vista mentale su cosa significasse portare questa maglia, su quello che rappresentasse per il popolo genuano e quindi diventava una lezione nella lezione, io poi ho avuto la fortuna di avere davvero degli allenatori importantissimi tra i quali Mainetto e soprattutto Maselli, poi ho avuto Perotti nella prima esperienza quindi tutti gli allenatori che erano sicuramente dei grandissimi rappresentanti dal punto di vista non solo dell'educazione che ti impartivano per diventare uomo ma anche e soprattutto quelle che seguivano per poter diventare un giocatore di un certo livello e quindi tanti sono i ricordi che sono scritti nel libro per cui è anche giusto non anticiparli. Di sicuro, e sono su questo d'accordo con Roberto che era una coppa alla quale si aveva poca importanza anche se da un punto di vista formativo ad oggi secondo me sarebbe assolutamente importante perché poi è nata con i giovani, la Champions League dei giovani serve tutto per fare esperienza, per incontrare altri campionati, per permettere ai giovani italiani poter cimentarsi contro altre realtà e in qualche modo diventare più internazionali anche nell'espressione di gioco. Per noi fu così, sicuramente la soddisfazione principale fu quella di arrivare alla finale, in dubbio, dopodiché la finale io personalmente la ricordo benissimo ma fu talmente tutto veloce che ci fu quel solo la bellezza e la soddisfazione di poter salire quei gradini lì e anche se non è la Champions League poter vincere la Coppa. Intanto perché per chi come noi arrivava dal settore giovanile significava comunque entrare a far parte anche se di una piccola storia del genere ma metterci il nome e per noi questo sarà un grandissimo motivo di orgoglio.